Chi è il Du? E' questo qui, è un coniglio, vedete, com'è questo coniglio? Un po' sangherato, poverino, ma è molto molto simpatico E lì, vedi, che è un'altra bambina, che è una bambina protagonista di un altro libro, non voleva mangiare i pidelli Quindi anche il Du ha qualche problema con i piselli, forse di altro tipo Ciao, mi chiamo Zucconiglio Sì, ho visto la controligro Ciao, mi chiamo Zucconiglio Ci conoziamo? Ah, sì, sì, lo do Ho la Z similante Come un serpente a sonari Che striscia con le strisce e molto molto deliroso Sono un coniglio fortunato Sono nato in un campo di carote Carote? No, grazie Non mi piace masticare Ma sono diventato re In un campo di piselli Perché?